La riforma delle province all'esame dell'Assemblea, governo ancora KO, da 150 a 180 mila abitanti la soglia dei liberi consorsi. Rinvio a martedì, Dario Piparo. Si dice che tre indizi facciano una prova e qualora servissero ancora conferme, il voto segreto impartisce la terza batosta al governo Crocetta. Questa volta l'espressione parlamentare ha riguardato la formazione dei liberi consorsi tra comuni e più precisamente la soglia di Costituzione. Il governo individua il numero minimo di 150 mila abitanti perché si formi un consorzio. La posizione oscillava dai 400 mila del PDS ai 300 mila proposti da Fontana del nuovo centrodestra. Secondo Crocetta il numero di 150 mila abitanti sarebbe dettato da una condizione precisa, tutelare ad esempio le province più piccole come Enna. Terrorismo psicologico lo bolla Toto Cordaro affermando che è già prevista la tutela delle nove ex province indipendentemente dal numero di abitanti. In realtà ciò che è una frangia avversa in pugna a Crocetta sarebbe la costituzione del consorzio di Gela, cara al presidente, che adesso rischia di non potersi concretizzare. Bene, il voto sconfessa la richiesta governativa e tende una mano all'opposizione, aumentando la soglia a 180 mila e rendendo di fatto più ostica la formazione dei consorsi. Intanto la via dell'intermediazione politica, o per meglio dire delle larghe intese, sembrerebbe molto distante. Uno dei punti riguarda certamente il fattore province con il centrodestra che richiede come requisito minimo l'elezione diretta, almeno del presidente di ogni consorzio, carica che, bene ricordare, verrà assunta dal sindaco del comune più numeroso. Ma la terza sconfitta, dopo il referendum confermativo e le città metropolitane, porta in questo momento l'opposizione ad avere il coltello dalla parte del manico. E non a caso una frangia del PD continua a considerare necessaria l'istituzione di un'intesa con il centrodestra. È semplificativo l'intervento di Mario Alloro, che richiede a gran voce di sedersi a un tavolo con l'opposizione, perché, afferma il deputato regionale, non si può continuare a colpi di maggioranza.